La presentazione in biblioteca comunale a Paternò, l'associazione culturale Paternò News, in collaborazione con l'associazione Sicilia Antica di Paternò, ha presentato l'ultima fatica del professore Mimmo Chisari, E1, re degli schiavi. Il libro racconta la storia dello schiavo E1, diventato re, e da cui si deve la prima rivolta servile nella Sicilia del II secolo a.C. contro l'impero romano. All'appuntamento, moderato da Francesca Coluccio, erano presenti tra gli altri Patrizia Curatolo, docente di lettere presso il liceo statale Lombardo Radice di Catania, e presidente del presidio del libro di Catania, e di la presidente regionale Sicilia Antica Giovani, Giuseppe Barbagiovanni, che ha curato la sezione fotografica del libro. E1 era uno schiavo di origine siriana, è venuto in Sicilia ed è diventato il leader di una grande rivolta, della seconda rivolta servile. E' un personaggio che ha tenuto in scacco le legioni romane per diversi anni, per cinque anni addirittura, e si è proclamato re. Addirittura a testimonianza storica di questa sua situazione, ci sono delle monete che sono state coniate in un bel periodo, di cui qualcuna si trova anche nel nostro museo di Silacusa, al Paolo Orsi. La collaborazione con il professore Chiseri dura da tantissimi anni. Le immagini fotografiche che lui ha scelto, che abbiamo scelto assieme, sono delle immagini che ritraggono le varie aree archeologiche, legate ovviamente a E1, re degli schiavi, anche del territorio di Paternò. Sono delle immagini fotografiche aeree, di diverse aree prese in esame, prese in questione, tra queste c'è Pietralunca, abbiamo anche delle immagini dell'Etna, dell'eruzione, delle immagini che ritraggono Morgentina, che ritraggono gli acroliti di Morgentina, insomma tutto quello che ha a che fare con E1.